Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Realizzare Meraviglie, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Il mondo è povero di saggezza perché cerca le cose veloci e crede così nella prontezza delle azioni fredde e precoci. Il mondo quindi ha scarsa sapienza, si affida a volte a cose inutili e frivole, però se saprebbe capire il senso delle sacre opere forse ne guadagnerebbe di più e otterrebbe migliori risultati divini. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Realizzare Meraviglie. Il mondo è povero di saggezza perché cerca le cose veloci, perché crede nella prontezza delle azioni fredde e precoci. Il mondo ha scarsa sapienza, vive tanto per vivere, senza il minimo di pazienza per le buone e sacre opere. Dovremmo invece realizzare le opere ricche di meraviglia, così da poter gridare alla bellezza che ci riunisce nell'anima. Realizzare Meraviglia con tenacia per dimostrare che esiste saggezza, amica della sapienza e della forza, che dona a tutti lieta speranza. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.